Tutti da Al Saludatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con la grandissima, bellissima, bravissima, Silvi... Lubamba! Lubamba! E scatta l'applauso! Da Campidoglio, anzi, sono in attesa di ritirare un premio in qualità... Microfono d'oro! Microfono d'oro, patron Fabrizio Pacifici, io sono qua in qualità di miglior speaker radiofonica nella categoria Dance Music. Dance Music, quindi continuate a seguirci, mi raccomando. Ecco, e ovviamente mandiamo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre. Ah, a tutti i miei fan, un saluto da Silvi Lubamba e mi raccomando, continuatemi a seguire come speaker. Sentite la mia voce sulla radio che suona, sulla radio che tuona, Radio Studio Plus, la radio più dance d'Italia. Ciao! Bellissima, Silvi!